anche oggi, giocatore dalle caratteristiche di gran carattere il gol, il gol, l'arbitro convalida, l'arbitro convalida è stata un'azione un po' confusa, è stato il gol, il top definitivo di Careca siamo al diciannoresimo minuto, sembrava che il portiere fosse in anticipo ecco l'appoggio, l'assist, osserviamo Careca arrivare e riesce, cammungando il piede, a collocare la palla nello stesso angolino nel quale era finito il pallone quando nel primo tempo c'era Giuliani 2 a 2 quindi adesso con il gol di Careca, pareggio al diciannovesimo dicevo che Careca mi sembrava più agile, più determinato di quanto lo si fosse visto nel corso del primo tempo Napoli che si distende nuovamente tra gli appoggiati